Al prossimo episodio Vi sfido, vi va di raggiungere nuovamente Quell'obiettivo? Comunque A prescindere, vi ricordo che Questa serie andrà avanti grazie a voi Quindi continuiamo la partita Sperando che non mi diano il copyright Di nuovo Esatto Questa l'avevamo già vista Però ve la faccio rivedere Si nascondeva un uomo Già devastato dalla guerra Un uomo Con una sola ossessione Punire chi gli aveva distrutto La vita Mamma mia, mamma mia Sto giocore Ne ho visti tantissimi commenti Che volete che ve lo porto Sono davvero contento Ok E ce ne andiamo Per di qua Però un'arma Ok, devo fare esplodere Con la TNT Ah, ok Ah, che figo Cioè, praticamente così apro No, ma è molto bello Andiamo a far esplodere Cosa? Con quale cattiveria? Oh! Mamma mia, ma Vai Apri Mamma mia, con quale cattiveria? Ok, c'abbiamo le bombozze C'abbiamo le bombozze Aspetta No Così, no? Ah, ecco, mi ricordo La tiro dentro? Eh sì, me sa che ci siamo Oh! Oh! Porca miseria Io intanto una ma La sorpresa Madonna, c'è il tettesco Madonna È un po' cruento comunque Non sembra perché è fatto A cartonare animato Che cazzo è? Ma avete sentito che audio? Madonna ragazzi Un capolavoro Un capolavoro Oh! Ok Eh, devo scendere Ah! Non ti dà tregua C'è questo gioco Eh Oh! Ok, sta ricaricando Ah! Aspetta, aspetta, aspetta Vai così Perfetto Sicuro devo far scendere le scale Oh! Ok Non mi dovrebbe prendere qua Forse Ok, ricarica Bastardo che non sei altro Vai, vai sopra, vai sopra Vai sopra, vai sopra Ok Qua ci stanno Dei mattoni Che ci faccio Col mattone Tom Non ho capito Che ci devo fare Col mattone Aspetta Perché se io facessi Così Ok Non capisco No Ti attacchi Al cacchio Ti attacchi Non hai visto niente Non è facile Ah, forse Devo fare così Vediamo un po' Oh! Eh sì Era così A questo lo blocchiamo Però Mamma mia Ti tolgo le botte No, mi sa che Non posso fargli niente A questo qua Però aspettate Ho visto la scala qua Ok E devo sicuramente Far esplodere Il ponte Quindi me ne vado Qua Qua manca Esatto Vediamo se manca Da qualche altra parte Invece no E vai Fallo esplodere Fallo esplodere Dai fallo esplodere però No, mi sa che Manca da qualche altra parte Qui c'è Qui c'è Eh no Qua c'è Da tutte le parti Ah, ok Dovevo tenere premuto Ok Gente che si tuffa Figo 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 Ok La battaglia della Marna Concepito ben prima della guerra Il piano di Sheffield Prevedeva una rapida sconfitta Della Francia Con un attacco Dal Belgio E nella Francia settenzionale Dopo la pesante sconfitta Subita nel mese Di agosto Il 6 settembre Le truppe francesi Affrontarono i tedeschi Nella prima battaglia Della Marna E riuscirono così A difendere Parigi Praticamente È quello che stiamo Vedendo adesso No Ah poi inventarono Ovviamente Le mitraglietrici Quella che abbiamo visto E vabbè Poi le bandiere Erano i simboli Delle unità militari E questo Sarà abbastanza capito Cerco di leggerveli tutti E Di non annoiarvi Ok Ho trovato qualcosa Di top secret Non so che cosa Ma l'ho trovato Qui che è Sto scatole di faciola Perché Aspetta Perché vuoi scommette Che devo fare Guarda eh Vediamo se Vediamo se c'ho ragione Oh E vabbè Con quale precisione Incredibile Andiamoci in avanti Sempre così Eh Qua mi serve Vabbè Prendo il mattone Sicuro Faccio Eh E me ne vado Per di qua È figo Molto molto bello Cosa Un'altra mitragliatrice Oh Baccia tua Sali 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 Apri 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 Scendi Scendi Bravo 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 Devo fare Di questo Non lo so Sto provando Ah Vai così Oh Beccate sta Dai però Ok Mamma mia La cosa incredibile Non te ne fanno mai Per dire Ammazza uno Che c'è Con quale incredibile Eccolo il barone V Ok Andiamolo a prendere Andiamolo a prendere Ok Aspetta 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 Ok Dai che sta ricaricando Veloce 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 Mortacci De Peppe La vedo Della frutta Incredibile Te Sti cazzi Aspetta Però Aspetta Però Perché io qua Non volendo Ho avverto Una cosa Perché Se io Faccio Di questo Ok Ok No ma Non è ancora Così Non è ancora Così Ma Ne sono Abbastanza Sicuro Ok Perché lui Guarda Verso di me Lui guarda Verso di me Quindi se io Faccio Esatto Se io faccio Di questo E salgo Non credo Non credo Che lo devo Sconfiggere Aspetta Perché Mi sa che invece Lo devo sconfiggere Porca miseria Perché pensavo Che dovevo fargli il giro Da dietro Invece no Esatto Allora Questo lo riprendo Questo lo metto Qua E Questo Ok C'ho la granata Volendo Oh magari Vi faccio fricare la granata Che cacchio ne so Io ce la provo Regà Non ci credo tanto Però ce la provo Ah Te ne va a fanculo Oh Mamma mia Quanto abbiamo Rischiato Da morire Abbiamo rischiato Da Ah la porta Ok ho preso Un pomodoro To Non devo fargli niente Che i pomodori Aspetta un attimo Aspetta 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 Che qua Magari c'è qualcosa Ok Perché se io adesso Prendo i pomodori E con i pomodori Faccio suonare Questa Lui mi va di là Vai Vaffanculo Madonna Pensa che pizze Che tira E Mamma mia Quale prepotenza Grazie al supporto Degli inglesi Sì Il piano tedesco Fallì La linea del fronte Si spostò a nord E si arrestò lì Con la complicità Dell'inverno Certo I soldati si rintanarono In un vasto labirinto Di trincee E tunnel Destinato a diventare Il simbolo Della grande guerra Mamma mia La guerra di trincea Ragazzi Il reggimento di Karl Ripiegò fino ai dintorni Di Neuve-Chapelle Nello stesso campo Dove Emile Era tenuto Puginiero Sì 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 Ma dimmi di 10 marzo 1915 Campo tedesco Che non ho letto mai Perché tanto Non mi fanno mai leggere Che bello Questo cagnolino Ok Lui vuole l'acqua Quindi Con lui Tiro giù l'acqua Eccola Il bau bau Bello lui Bau bau Eh sì lo so Ok Questo non so Che cosa Possè Che cosa Ok Perché qua Non me lo preme Qua non me lo preme Però questo Lo posso premere Aspetta Esatto Portalo Portalo per di qua E' me Eh Uuuu Caio Ah Caio Maria Attenzione Padre mio adorato Viviamo in un clima Di incertezza Sì Il nemico Usa gli abitanti Di Saint Miel Come scudi umani Contro le bombe francesi Spero che i tedeschi Ti trattino bene E che le ferite Siano guarite Tuo nipote Ti manda tanti baci Ecco una sua fotografia Scrivimi presto Ti voglio bene Che figata Pazzesca Una Figata Pazzesca Vediamo un po' Le lettere Le lettere Erano L'unico Mezzo Di comunicazione Con il mondo esterno Dal momento Che radio E telefoni Servivano Solo per scopi Militari Tutti i soldati Scrivevano Ai propri cari Rimasti a casa E Dal momento Che la spedizione Era gratuita O quasi La corrispondenza Divenne Un problema Logistico Ed Economico Nel corso Della guerra Furono spedite Dieci Miliardi Di lettere E cartoline Dal fronte Senza contare Che tutte le lettere Da E per il fronte Dovano essere Sottoposte A censura Inutile dire Che l'arrivo Del postino Era atteso Con ansia Mamma Mamma mia Ragazzi Mamma mia Poi il 10 marzo 1915 Una pioggia di proiettili inglesi Investì Le truppe tedesche Per la prima volta Fu utilizzato il fuoco Di sbarramento Che figo I fusilieri Di Gerwell Agli inizi Del novecento Inghilterra E Francia Possedevano vasti Imperi Coloniali E sicuramente Molte fuggirono Ottenute Vabbè Presero là Fango in trincea La vita in trincea Era terribile I soldati Dovevano affrontare Freddo Pioggia E fango Inoltre L'acqua sporca Veicolava rapidamente Malattie E uguali Di senteria Tifo E colera Mamma mia È tutto vero Gli esplosivi Svolsero un ruolo Fondamentale Per fortificare Le trincee Si usavano Gli esplosivi E vabbè E fin qua L'abbiamo capito Ok Cosa Non ho Ok Eh ma l'ho capito Cosa Ma Non accendo il fuoco Guarda Aspetta Magari non si accende Può essere Che è rotto O forse Esatto Magari Devo far così Esatto Sto mettendo Ok Quindi metto l'acqua Accendo il fuoco Madonna ragazzi Sto gioco è strepitoso Ci aggiungo le salcicce E mo gli porto A quel bastardo Le salcicce Vediamo un po' eh 6 milioni di prigionieri Tra il 1914 E il 1918 Furono fatti Prigionieri Più di 6 milioni Di soldati Tra cui Milioni e 2 2 tedeschi 200 mila inglesi E 600 mila italiani Nonostante la convenzione Di Dell'AIA Del 1907 Gli sforzi della Croce Rossa Internazionale Le condizioni dei campi E lavori forzati Misero a dura prova I prigionieri Centinaia di migliaia Di loro Non fecero mai Ritorno a casa Mamma mia Ragazzi Porta Porta Cosa Quanti Quanti Porca Questi sono gli inglesi Ma no Ci sono le salcicce Maronna mia Fatemi andare via Ah Non l'ho vista Cioè praticamente Dovevo scappare Me ne vado Me ne vado Chi va se Strancula Andiamo dentro Andiamo dentro Io penso che dentro Sia il posto più sicuro Eh si Automatica No il cagnonino Che Che bello L B E A Bello Che bello Che bello Mamma mia Ragazzi Io direi Che l'appuntamento Di oggi Può finire qua Spero che il video Vi sia piaciuto Questo gioco È veramente Eccezionale Spero che continuarete A sopportare Questa serie Se fosse così Pollicione in su Commentate Condividete Al prossimo appuntamento Col vostro Ciccio Chevano 89 Ciao Ciao